Il Covid non è sparito, ma è vero che c'è stato un lieve aumento in Italia? Sì, in realtà questo lieve rialzo si è notato in Italia, ma si sta notando un po' in tutto il mondo, perché ci sono delle nuove varianti, Kp2 e Kp3, che sono un po' più cattive rispetto alle altre, e questa cosa non ci deve assolutamente spaventare. La circolazione del virus responsabile del Covid-19 è in leggero aumento, ci dice il professor Paolo Fazzi, direttore dell'Unità Operativa Complessa Microbiologia e Virologia dall'ospedale di Pescara. Nonostante l'arrivo della bella stagione che dovrebbe fare da freno al virus, l'ultimo bollettino pubblicato sul sito del Ministero della Salute segnala appunto un lieve aumento dei casi. Prudenza ma non allarmismo, ribadisce il professor Fazzi. Ormai le varianti che circolano in definitiva si sono abbastanza abituate all'ospedale umano, quindi sappiamo che grossi danni non ne fanno. Quindi bisogna vivere serenamente l'estate, magari prendere delle accortezze, se si va in treno o magari in aereo forse conviene mettere una mascherina perché ovviamente d'estate con la grossa circolazione di individui in tutto il mondo, in Italia in particolare, questa nostra vocazione turistica consente ovviamente a tutti i virus, a tutti i patogeni, di avere possibilità di svilupparsi di più, non è solo un discorso di SARS-CoV-2. Basta appunto prendere delle precauzioni forse, ma questa situazione non ci deve spaventare, occorreranno probabilmente ancora molti anni, fin tanto che SARS-CoV-2 diventerà un virus assolutamente tranquillo, in grado solo di dare un raffreddore comune, perché quando questo virus muta, solitamente in questa fase dovrebbe avere delle mutazioni che gli diano la possibilità di essere più trasmissibili. E lievemente più patogeno. In definitiva, quello che voglio dire, bisogna essere sereni, però bisogna anche sapere le cose come stanno andando, c'è un lieve rialzo, non c'è da essere preoccupati. L'autunno, l'inverno, come li vede? Beh, per quello che si stava dicendo, probabilmente con i mesi freddi ci saranno dei rialzi relativamente al numero di casi, probabilmente anche al numero di casi con qualche problema in più, soprattutto relativamente ai setting di soggetti immunodepressi, oltre 65 anni, diabetici, obesi, tutte queste cose che ormai sappiamo ammenadito. Abbiamo attraversato la burrasca, la tempesta della pandemia da Covid-19, quindi sappiamo come fare, ma ormai Covid-19 fondamentalmente non ci spaventa più. Poi abbiamo l'arma del vaccino, che probabilmente dovrà essere utilizzata in setting appunto di soggetti a rischio, ma non diciamo come si è fatto nel recente passato vaccinare tutta l'intera popolazione.